Al 43esimo siamo passati alla gara di ritorno perché ad Atene il 16 marzo del 77 finisce 3-0 anche per l'AEK, gol di Mavros all'undicesimo, nella ripresa ancora Mavros al 65esimo, riprende una ribattuta e mette di prima intenzione alle spalle del portiere del QPR. E poi 82esimo, 3-0, Papa Ioannu, incredibile, si va ai rigori e vediamo gli errori, si andrà anche ad oltranza, segnano nei primi rigori, anzi sbagliano, Nico Ludis per l'AEK e Istoi, vediamo adesso l'errore del QPR, di Istoi, si va ad oltranza e sbaglia Webb, Webb sbaglia il rigore decisivo, aveva segnato poco prima Papa Ioannu che aveva segnato anche il 3-0, quindi eroe di questo turno di quarto di finale del Queen's Park Rangers.